Un doveroso omaggio ad un cittadino illustre che ha dato lustro a Chieti. Così il sindaco Diego Ferrara in conferenza stampa ha presentato quello che accadrà lunedì mattina, 4 dicembre, al Teatro Marrucino, quando verranno consegnate le chiavi della città al generale Giorgio Toschi, generale di Corpo d'Armata, già comandante generale della Guardia di Finanza. Un tributo che il primo cittadino spiega così. Il generale Toschi, oltre che essere un teatino, un teatino di eccellenza, come poc'anzi nella conferenza stampa l'ho definito, ha un background professionale e di esperienza che lo porta alle più alte vette di eccellenza della nostra città. Il generale è l'espressione proprio del nostro ingegno, dell'ingegno teatino, della caparbietà, della professionalità. E quindi veramente io sono orgoglioso con tutta la mia amministrazione di dare a lui questo, diciamo, riconoscimento, perché, posso dirlo, è uno di noi. Tanti e prestigiosi gli incarichi e i riconoscimenti ricevuti dalla generale Toschi, con una sorta di primato condiviso con pochi altri, essere stato uno dei primi comandanti generale della finanza proveniente dal Corpo, come sottolinea Michele Iadarola, comandante provinciale. Come tale si è fatto subito interprete comunque di un'esigenza che aveva la nostra amministrazione, di sentirsi più adeguata anche ai tempi che cambiavano, e cioè esigenza di adeguarsi ad una criminalità economico-finanziaria che richiedeva da parte nostra un impegno molto più pressante e che soprattutto utilizzasse quelle che erano le nuove frontiere della tecnologia, che ovviamente la Guardia di Finanza ha tenuto bene a mente attraverso l'utilizzo delle banche dati, proprio per cercare di individuare a tavolino quelli che erano gli indici di rischio che ci consentivano poi in maniera sempre più certa e soprattutto chirurgica aggredire quella che era la criminalità economico-finanziaria sul territorio.